ciao ragazzi oggi si parla di one mata alla lazio il giocatore è a scadenza col manchester united non rinnoverà il contratto e quindi oggi alcuni giornali parlano del possibile interesse della lazio a one mata chiariamo subito il giocatore che è stato fortissimo ma sarebbe questa la risposta di lotito ettare al colpo murigno alla roma beh mi auguro di no one mata quest'anno ha giocato sette partite in premier league con manchester united sette un totale di 339 minuti ha giocato più per era nella lazio quest'anno che one mata nel manchester united parliamo di un giocatore di 33 anni ma logoro cotto finito stato un grande giocatore tant'è che manchester united per prenderlo dall'arsenal lo pagò tantissimo ma è un giocatore che non gioca mai nel manchester united vi ricordate era in champions league nei gironi ha perso ha giocato una partita nei gironi una nelle altre non è mai entrato mai questo è un segnale no nella partita importanti non lo fa giocare mai è evidente che giocatore ha qualche problema nelle ultime otto partite di campionato neanche un secondo ha giocato neanche un secondo in cinque era infortunato in tre è rimasto in panchina non gioca da fine febbraio dove ha giocato due minuti cioè entrato proprio nel recupero giusto per perdere tempo e prima di allora a dicembre l'ultima partita anche lì minuti finali ne ha giocati una ventina eccetera parliamo di un giocatore che non gioca mai non gioca mai e questo sarebbe il grande colpo della lazio o amata che arriva a roma ovviamente chiedendo anche tanti i soldi ecco se questo deve essere il colpo mediatico per rispondere a murino beh meglio non rispondere perché questo è un disastro un conto è david silva un conto è un amata no non sono la stessa cosa david silva era il titolare nel city quando è andato via parametro zero o amata non gioca mai mai 330 minuti in campionato in champions league ha giocato 61 minuti cioè ragazzi questo è il giocatore che non gioca mai nel manchester united è un giocatore cotto un giocatore molto soggetto di infortuni anche quest'anno si è infortunato spesso è un giocatore che verrebbe a roma a fare la panchina e non sarebbe utile per niente perché in quel ruolo ci abbiamo luisa alberto o amata che fa luisa alberto no e quindi ho letto un po ovunque questo nome e io sono terrorizzato vi devo essere ve lo devo dire onestamente terrorizzato se arriva uomata è un disastro se questa è la risposta di lo titettare a josé murino alla roma allora mio dio speriamo di non rispondergli perché questo non è girù non è david silva non è mirio close non è nessuno cioè un giocatore finito purtroppo giocatore che negli anni passati è stato fortissimo non si discute ma a 33 anni quindi diciamo abbastanza giovani rispetto agli altri è un giocatore finito in più stiamo dicendo da inizio settembre che la lazio la rosa più vecchia della serie a andiamo a prendere 33 n per ringiovanire la rosa no l'anno prossimo lazio si iscrive direttamente al torneo over 35 e quello lo vinciamo a mani basse ci abbiamo lulic lei varato eccetera vinciamo lei e reina siamo fortissimi se facciamo il torneo per 35 la mata secondo me può aiutare ma se l'obiettivo della lazio dell'anno prossimo è lottare per la champions league one mata è l'acquisto peggiore che potesse arrivare ripeto se questa è la risposta della lazio all'acquisto di murigno alla roma beh meglio non rispondere far finta di niente mettere la testa sotto la sabbia perché questo sarebbe un colpo disastroso disastroso grazie a tutti